Lanzichenecchi, i signori della guerra del Sacro Romano Impero I Lanzichenecchi dal tedesco Landsknecht, servo della terra erano soldati mercenari di fanteria che combatterono per il Sacro Romano Impero Germanico tra la fine del XIV e il XVII secolo. Famosi per la loro abilità in battaglia e per la loro condotta spesso brutale, i Lanzichenecchi ebbero un ruolo significativo in alcuni dei più importanti conflitti dell'epoca, tra cui le guerre d'Italia e la guerra dei Trent'anni. Origini Ascesa Le prime compagnie di Lanzichenecchi si formarono nel XV secolo, in un periodo di declino del sistema feudale. Questi soldati provenivano da diverse classi sociali, principalmente da contadini e cittadini impoveriti, che vedevano nel mestiere delle armi un'occasione per migliorare la propria condizione. Erano organizzati in compagnie autonome, comandate da capitani di ventura che ne gestivano l'arruolamento, l'addestramento e la disciplina. Armamento e tattiche I Lanzichenecchi erano armati principalmente con picche, spade a due mani e armi da fuoco portatili come archibugi e pistole. La loro tattica di combattimento si basava su cariche frontali massicce e ordinate, volte a sfondare le linee nemiche. Erano noti per la loro ferocia e per la loro abilità nel corpo a corpo, che li rendeva avversari temibili. Le guerre d'Italia I Lanzichenecchi presero parte a tutte le guerre d'Italia 1494-1559, combattendo al servizio di diverse potenze europee. La loro fama di crudeltà si diffuse in questo periodo, soprattutto dopo il sacco di Roma del 1527, in cui perpetrarono violenze e saccheggi contro la popolazione civile. La guerra dei Trent'anni I Lanzichenecchi furono protagonisti anche della guerra dei Trent'anni 1618-1648, un conflitto religioso che devastò l'Europa centrale. In questa guerra, la loro efficacia in battaglia venne meno a causa dell'evoluzione delle tattiche militari e dell'introduzione di nuove armi da fuoco. Declino e scomparsa. Dopo la guerra dei Trent'anni, il sistema di fanteria mercenari entrò in crisi. I Lanzichenecchi persero progressivamente importanza e le loro compagnie si dispersero. Nel X secolo, le monarchie europee iniziarono a creare eserciti permanenti, rendendo obsolete le compagnie di ventura. Eredità I Lanzichenecchi hanno lasciato un segno indelebile nella storia militare europea. La loro abilità in battaglia e la loro condotta spesso brutale hanno contribuito a plasmare l'immagine della guerra nel XVI e XVII secolo. La loro eredità è ancora oggi presente in alcune lingue europee, come l'italiano, in cui la parola Lanzichenecco è usata come sinonimo di soldato brutale. Oltre la battaglia, oltre al loro ruolo militare, i Lanzichenecchi hanno avuto un impatto significativo anche sulla cultura e la società del loro tempo. La loro moda sgargiante e i loro costumi licenziosi influenzarono la vita quotidiana delle città in cui erano. Distanza. Inoltre, diffusero nuove idee e usanze provenienti da diverse parti d'Europa. Conclusione I Lanzichenecchi furono un elemento chiave della storia militare europea per oltre due secoli. La loro abilità in battaglia, la loro condotta spesso brutale e il loro impatto sulla cultura e la società del loro tempo li rendono un soggetto, di studio affascinante e complesso.